Anche in territori dove l'infiltrazione mafiosa risulta minima, non bisogna mai abbassare la guardia. Le parole di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, ieri a Leporano per le giornate della legalità, descrivono così la situazione del Tarantino, un territorio relativamente tranquillo ma confinante con le province nelle quali è nata e ha preso piede la Sacra Corona Unita. L'incontro, tenutosi ieri al castello Muscettola del Comune Ionico, è servito anche a questo, a mappare cioè la situazione del potere criminale nella nostra regione. Calleri si è soffermato in particolar modo sull'emergente mafia garganica, potere criminale con inquietanti collegamenti con la borghesia produttiva e sulla situazione di Bari dove i clan mafiosi si stanno riorganizzando un excursus dei poteri criminali nel nostro paese, quello fornito dal presidente della Fondazione Caponnetto, con interessanti focus sulle nuove mafie, quella bulgare e quella croata, non tralasciando naturalmente la mafia cinese, potere primario, non in sudditanza rispetto ad altre forme mafiose. Se io mi occupo di mafia cinese, io sono siciliano, mi occupo di mafia siciliana, mica ce l'ho con i siciliani, ce l'ho con i mafiosi siciliani, me ne vergogno, vorrei che la mia terra non ce l'avesse e fine. E questo è stato però il secondo errore, perché io mi ricordo che non si poteva parlare di mafia cinese perché le amministrazioni, ora ne parlano anche troppo, però hanno fatto laureare i propri figli e la mafia economica cinese è così forte che si sono studiati i tempi di reazione degli italiani. L'incontro di ieri, organizzato dall'Istituto Gemelli di Leporano, ha previsto durante la giornata il laboratorio di legalità che ha coinvolto gli alunni del progetto PON, conosciamo il nostro habitat. La Fondazione Caponnetto, ente nato dall'impulso e dall'insegnamento del magistrato antimafia siciliano scomparso qualche anno fa, promuove proprio incontri sulla cultura della legalità per i più giovani.